salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono dragon rex siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio di residentivo zevo il secondo titolo che sto portando sul canale della saga di residentivo in compagnia proprio come residentivo hd remaster del mio cavo amico panzer devish panzer 3 tv che saluto perché anche oggi è qui con me per registrare questo nuovo episodio ciao panzer bentornato sul canale ciao dragon rex ciao a tutti grazie mille per questo invito che sono lusingato onorato di far parte di questo progetto iniziato l'anno scorso con resident evil hd remastered e che adesso si sta proseguendo con resident evil zero zero la versione la pronuncia americana pensavo la pronuncia tedesca molto 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 simpatico è certo sono sono contento di partecipare a questo lungo progetto aggiungo anche che ci saranno a progetti con altri titoli in futuro sempre insieme quindi mi raccomando rimane 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 sintonizzati su questo canale e niente io sono sempre più emozionato di fare di fare questa esperienza si può dire youtube bica si può dire ma guarda lì può dire quello che più le piace non si preoccupi nessuno che vogliamo chiamiamo a meno che non intervenga qualcuno che lei conosce però penso che che non è un'esperienza bellissima su youtube in quanto anche io sono su youtube ma più che altro lo uso come archivio di live su twitch a twitch niente io sono sempre più lusingato per questa cosa questo progetto è niente io lascio la parola al caro amico e compagno di viaggio dragon rex e niente io lascio la parola a lui grazie ancora la ringrazio ha parlato per tre quarti dura finalmente mi da scherzo allora come ha detto giustamente il cavo amico pants ci saranno altre collaborazioni future a parte residentivo alcuni titoli come bayon to souls the evil within the evil within 1 e 2 sono altri titoli come anche di no crisis ma ce ne saranno altri il quale porteremo insieme in collaborazione ovviamente lui è più uno streamer di twitch che uno youtuber visto che lo utilizza il canale youtube come a lui stesso detto come archivio dei video di twitch però è un bravissimo streamer e ha giocato a tantissimi giochi e poi residenti volemo seri giochi preferiti che ha a detta sua e io ci credo consumato durante la sua vita c'è giocato spesso quindi anzi ci giocherai pure a breve quindi cerito questo ecco detto questo ragazzi il progetto residentivo è iniziato se non vado errato non un anno fa ma a dicembre dell'anno scorso abbiamo iniziato a leggere quasi un anno fa quasi ci siamo dove un mese e mezzo dai comunque precisamente non essere non sia pignolo su questo dottor comunque passando pignolo come direbbe alto giovane già sì che se passando dentro lo sappiamo però a parte questo non sia pignolo comunque mi faccia finire e noi abbiamo inizia posso posso finire se no puoi perdere il filo abbiamo iniziato a registrare residenti vol cadire master 25 dicembre vabbè vuole dire altro comunque non è stata registrare a dicembre il residenti vol è finito a più o meno sono materrato a fine settembre il primo residentivo e adesso siamo partiti con lo zevo non era piena estate dottor mi scusi che cosa non avevamo finito di registrare in piena estate abbiamo finito di registrare in estate però ovviamente sul canale è finito a settembre quindi verso fine settembre mi scusi lei no non si preoccupi poi la banno dopo comunque abbiamo iniziato questo questo residentivo zero siamo al quarto episodio abbiamo superato il treno tutto ciò che abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare sul treno e siamo arrivati in questo laboratorio dell'umbrella no non è un laboratorio vabbè come la vogliamo chiamare centro del centro di ricerca dell'umbrella sì ok va bene centro d'addestramento dell'umbrella abbiamo visto nell'episodio precedente anche il primo divettore dell'umbrella il dottor marcus che sembra sia stato ucciso ma quanto pare lo abbiamo rivisto in compagnia di un tizio un pochino come posso dire inquietante devo dire che è quello che comanda quelle sanguisughe là e tutto il resto allora detto questo poi ovviamente poi scopriremo di che cosa di chi si tratta detto questo io direi che possiamo anche continuare noi io ho già lasciato qua i ricchi i nasti inchiostratori abbiamo delle piantine qua che per il momento che oddio potrei anche prenderle per fare per combinare un'allora volendo visto che si la rebecca non è messa bene anche lui non è messa bene però lui c'era la cura volendo ok quindi prendiamo queste due piantine e le combiniamo insieme vede come sono bravo come ho imparato a combinare io non allora ecco appunto allora dottor adesso scegliamo una porta la porta sulla destra porta a destra alla mia destra e signor quindi questa qui giusto bene vediamo cosa ci si cela dietro a questa porta ragazzi e si attento a che mi dice così è certo dottor le sta spara a vuoto è sicuro se da quello che l'ho fatto saltare allora innanzitutto insomma dopo di fogliettile si ha abbastanza di guardi la 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 stanza che sa che lei un amante gtr vuol di vuole si non mi tolga questo cos'è belle che mi piacciono trovare un po di munizioni che fanno sempre comodo allora vediamo cos'altro c'è non c'è niente qua c'è una quella è la porta si è una porta che poi sbloccheremo più avanti ma adesso non abbiamo la chiave quindi deve andare in cucina se la porta in fondo dottor sì ma questo si alza dici più avanti dottor una è la porta che c'è quindi non è che proprio pensavo che si alzasse ok adesso venga su di noi la porta a sinistra perfetto è l'unica porta che c'è mi sembra o se andava verso la finestra o la porta a non lo so o è basta aspetta 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 io non avendo l'audio non ho è morto no attento aspetta aspetta bravo billy ha fatto stata la testa abbiamo fatti fuori tutte e poi non c'è niente no no ma no 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 guardava la vo dottor si preoccupi qui c'è qualcosa allora sì un attimo solo prenda allora metta un attimo l'inventario nello spazio ce l'abbiamo metta vada su billy ok allora faccia una cosa fai pre fai prendere il fucile a rebecca che probabilmente lo deve passare a billy e deve prendere l'oggetto che appena visto sul quindi qua troviamo il fucile si come sono contento il fucile allora becca prende il fucile no che cos'è della tanica il fucile ok questo fucile a pompa che a lei piace tanto è ovvio ma perché io vado sempre di artiglieri e pesante questo lo dovrebbe sapere sì sì ma tra l'altro penso che questo la facciamo equipaggiare subito perché penso che lei no 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 perché volendo la il fucile a pompa lo possiamo utilizzare contro e boss ok va bene per cose più e file fai prendere a billy la statua perché non ci abbiamo spazio è ok prendiamo questa statuina ok ok adesso torni nella hall qua sulla scala niente sì se vuole dopo che ci sono altri oggetti da prendere perfetto allora torniamo nell'atrio possiamo equipaggiare no vabbè detto che per usare i boss giustamente allora di qua si va no è sbarrata la strada dottor no si deve andare più avanti non si preoccupa va va bene allora torniamo indietro si è l'anima del gdr che voleva esplorare che devo fare basta cosa non faccia così eh se no la banno no 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 non mi può bannare io sono io sono invincibile su queste cose si 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 invincibile allora allora qua siamo tornati allora posi il rampino dottor deve posare il rampino eh si si sto trovando un posto adeguato dove metterlo dottor mi scusi eh mi scusi lei ho capito che lo devo lasciare ok adesso salga le scale ok questo è il rampino l'abbiamo lasciato andiamo verso le scale cosa che non è male questa come devo andare la statua che la 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 statua sopra andiamo alla statua si deve mettere la l'oggetto sulla bilancia ok c'è scritto qualcosa alla base quando il bene e il male saranno in equilibrio un nuovo sentiero ti si aprirà dinanzi ok ok e abbiamo messo e prende tutto su non so che cosa bene questo è fatto ok adesso torni se vuole andiamo alla scala si ok quella che vi tratto inquietante ebbe molto inquietante ebbe dottor siamo su un siamo su resident evil eh eh sì e abbiamo tanti titoli da portare eh eh voglio anche in cooperativo dove io mi dovrò subire anche lei in cooperativo le assicuro che avremo tante difficoltà perché io non so tanto eh quello mi preoccupa cooperativo diciamo però vabbè quello mi preoccupa vabbè non faccia così il pessimista eh allora vada su dottor eh sì dottor salire dalla scala sì allora vediamo cos'altro troviamo quassù qua andiamo sul tetto donnamo sì allora adesso altri zombie che bello questo si alza non mi ricordo mamma mia si alza questo è grosso aspetta attento alle spalle ok tutto alle spalle rebecca vabbè ma che ha deciso vabbè mi scusi eh ti ho detto che è impedita dottor ma abbastanza eh oh no posso per tutti i proiettili basta basta ok allora facciamoli curare che qua li vedo male allora lui usa vediamo lei? si è lei sta in pericolo tutto quando mette così basta che preme triangolo lo fa eh ah senza uscire ok pensavo che dovevo uscire vabbè qua no basta che fa direttamente da triangolo qua anche così lo può fa va bene va bene lo stesso mi piace questo movimento che da allora è tecnico tattico lo so sì oh guarda meno male c'è una cura qua prendila che ci può essere sempre utile allora dove aspetti mi faccia vedere allora vado verso la porta rossa o vado da questa parte che mi sa che non c'è nulla no ci sono le cure dottor sono le piantine questa la facciamo via lei ovviamente eh questa piccola torre che vede dottor poi avanzando nel gioco poi si avrà una porta davanti bene so contento dottor devi tornare indietro dobbiamo andare di qua no ah mi veda un attimo se la porta si apre la dice vossa quindi non penso che si apre però vediamo che non mi ricordo se si sblocca allora vediamo la porta adesso è aperta è aperta ok come l'abbiamo aperta non c'ho manco le chiavi ah perché c'è il chiavistello la vede ok ok apri entriamo si c'è il chiavistello ecco perché si è aperta ok bello qua bella frattura allora adesso c'è un altro punto salvataggio ho visto si ehhh se no mmm dica dica vada allora nel punto salvataggio ci sono comunque altri in altri inchiastratori che comunque io vorrei volendo io le segnalerei e me le lascerei lì mhm perché comunque ogni oggetto che che visualizza però non prende viene comunque segnato sulla mappa cosa molto utile sarebbero sarebbero quei puntini che stanno lampeggiando giusto? esattamente allora noi abbiamo lasciato qualcosa sul treno vabbè ma può tutto che gli frega ah si sicuramente abbiamo lasciato proiettere vabbè ehhh andiamo alla porta gialla quella piccolina si questa non si può aprire no aspetta no prima no prima di andare alla porta gialla dottor devi uscire prima da questa stanza qui non lo tornare indietro? si e che c'è no devi uscire nella porta gialla al centro che ti porta nella nella hall ah devo da prima la ok sempre se non incontriamo altri nemici ok la strada è giusta ok chiedo scusa faccia faccia con comodo sia tranquillo qua usciamo dietro la statua? si immaginavo ok allora deve ehm deve scendere e andare andava alla porta gialla andava alla porta gialla di giù? no 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 aspetta aspetta otto ehm si alla porta gialla l'altra parte si però le consiglio le consiglio di tenere fuori di tenere fuori Rebecca e andare con Bill perché ci sarà un piccolo agguato un piccolo agguato un piccolo agguato quindi meglio andarci da solo che so cagli sono? ehm? no no allora faccia una cosa va beh lo lasciamo lo lasciamo qua allora risalga le scale ok torniamo su vado vado ok sulla sì sulla porta sinistra sì quella in fondo piccolina gialla perché deve prendere un oggetto importante ok vada lì ce le ho i proiettili non sono manco no allora aspetta un attimo aspetta un attimo allora eh visualizza prima la la stanza non appena prende l'oggetto scappa immediatamente subito ma prima di subito dov'è l'oggetto eccolo no 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 visualizza prima la stanza ok questa è la stanza va bene c'è anche un documento da leggere però lo posso leggere il documento? eh per forza vediamo che ci sta a fa' leggiamo il documento avviso al personale il documento è piuttosto datato buona parte del contenuto è elegibile riunioni delle squadre che lavorano allo studio dei vaccini e degli agenti infettivi saranno tenute regolarmente entrambe le riunioni sono classificate con il livello di sicurezza 5 e si terranno nei seguenti ambienti primo piano ovest sala di controllo secondo piano sud est sala di ignoni il codice di accesso sarà 815 grazie ok ci vogliamo segnalare sto numero 815 anzi preoccupi lo so dove si va bene allora adesso possiamo prendere la statuina? no deve prendere l'oggetto che lampeggia una volta che lampeggia sulla sinistra esci prendo questo giusto e me ne ho che cos'è? ah una manovella ok ok adesso scappa subito scappa subito ok a posto i corvi i corvi me lo ricordo di essere un tivoli hdm sono fastidiose ok allora premere 2 dottor premere 2 si ok r2 a mappa ah no perchè mi confondo con l'altra versione va bene no l'altra cosa vuole vedere? no no di riprendere Rebecca vabbè che lo facevo io manualmente vabbè si ripiglia Rebecca si allora ritorni ritorni al punto dove siamo entrati dove siamo usciti no dietro la statua tanto adesso arriva Rebecca vieni Rebecca possiamo andare di qua? eh dobbiamo andare per forza là andiamo andiamo la manovella mi mancava la manovella che abbiamo utilizzato tante volte invece di un tivoli cadive master allora adesso possiamo andare a quella porticina gialla si dici che converrebbe salvare vabbè no per adesso no dai andiamo avanti se le vuole dipende vabbè andiamo avanti di qua dai apro qua eh si ecco caso mai poi quando chiudiamo l'episodio andiamo a salvare oh già sento gli amici arrivare bello gli amici suoi no sono tutti amici suoi sempre dottor no no mi dispiace attento attento dietro tu no dove si spari però Rebecca te fa pigliare sempre tu eh ok e sempre si fa male lei andiamo qua c'è no dottore la porta no non quella questa questa qua dottore le do un consiglio aspetta un attimo vabbè entra prima nella stanza no no perché adesso mi sa che ho finito i proiettili perché sto pronto a caricare sì infatti vediamo qua ok vabbè nel caso gliele manda qualcuno dottore ehm adesso gli scambio un attimo qualche d'uno perché perché siamo un po' basta allora adesso dottore innanzitutto ehm fai equipaggiare a Rebecca il pompone il pompazza ehm ok e in più curati eh per forza non è che stia meglio però vabbè ok ok adesso entro 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 solo con con Rebecca no 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 tutti e due tutti e due allora metto Billy a comando Billy ha caricato? carica Billy ok dobbiamo entrare in questa porta perfetto allora dottore come le sembra per il momento? oh mi sta piacendo tantissimo guarda ma perché ci sto io si si anche perché c'è lei e non solo lei allora dottore una cosa deve prendere quell'oggettino che lampeggia vicino alla questo qui si prendere microfilm a ok preso ok poi c'è un'altra cosa qua che lampeggia è la mappa che è la mappa la posso prendere? eh per forza ok abbiamo aggiunto la mappa perfetto hai preso la mappa del centro di addestramento ok cos'altro c'è qua? guarda avanti oh c'è qualcosa qui c'è allora dottore vuole un consiglio? vuole un consiglio? si dica vada a salvare quindi questo lo prendo vada a salvare e si prenda pure nel caso pure quelli che abbiamo visto quali quali? quelli che stanno vicino alla scrivania qua? cioè la macchina da scrivere? no no questo è l'ascensore che dobbiamo usare dopo ok allora andiamo esca di qua un attimo ok ok allora andiamo a salvare che non si sa mai dice lei giusto? abbiamo fatto anche eh perché con lei non mi fido più che altro vabbè abbiamo fatto anche un bel po' di cose quindi ci sta a salvare allora dobbiamo tornare indietro da qua no all'altra parte eh l'altra parte giustamente eh a sto punto dottore può salvare proprio ehm allora faccia una cosa vuole salvare lì dove stanno gli altri nastinchiostratori o vuole farli giù nel piano inferiore? no no andiamo dove stanno gli altri nastinchiostratori e così lasciamola tutti salviamo e lasciamola tutti ah ok si e poi capito tanto è una zona che dobbiamo comunque esplovare io sto sbagliando anche strada quando mai? poi sono io eh eh ma io seguo la mappa la mappa a volte dottore deve seguire a me non la mappa la mappa io la so a memoria ecco dove vai Billy? da qua ok quindi ci siamo oh qua c'è anche roba eh certo ci abbiamo il nastro inchiostratore e aggiungiamo e a lì facciamo prendere i proiettili del fucilazzo si ok ok allora a questo punto salviamo aspetta non vuole prendere quelli di giù? a sto punto? tu dici mettere tutti insieme? eh a sto punto va bene va bene lo facciamo così inutile che il bebecca venga con me dottor dove va? ora a Billy devi chiedere dove va Billy? dottor no deve uscire dottor deve uscire dalla porta da qua eh eh sì un attimo tu la so la strada mi faccia orientare oddio mica tanto eh no vabbè mi devi far orientare eh è la prima volta che faccio questa questa vana quindi devo imparare bene bene dove è la zona dove sono tutte le zone allora speriamo di non incontrare cani bestie bravie oh no allora qua sono gli alti nasti inchiostratori se Billy li va accoglie Billy? ecco bravo ok così ce l'abbiamo tutti insieme ok quindi vuole salvare dove sta Rebecca capito? sì 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 così vediamo là poi poi vedi anche se onestamente questi altri li potevo pure lasciare giù no no meglio insieme dottor perché c'era l'altra macchina da scrivere però vabbè poi casomai ce li riportiamo giù non si sa mai allora andiamo mmm intanto faremo ancora un po' e poi ok c'è una macchina da scrivere perfetto ma davvero c'è una macchina da scrivere ma quanto è bella questa macchina da scrivere lo salviamo qua ok sala sala conferenza ok adesso adesso dobbiamo tornare in quella stanza di prima come ha detto sì perché dobbiamo usare l'ascensore cioè la manovella in pratica eh ma si deve portare pure Rebecca però eh ah già è vero scusi scusa Rebecca la stavo lasciando qui venga venga ha fatto ha fatto equipaggiare ha fatto equipaggiare ok sì sì ce l'ha allora da questa parte la porta è questa sì ok andiamo 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 stiamo facendo fuori tanti zombie anche se non li stiamo bruciando perché qua non serve meno male perché nel primo mi ricordo che insomma c'era tutta vada 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 andiamo il classico modo di aprire le porte di resident evil ok vada vada nella nelle cose Rebecca si sposti si mette davanti ok vada 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 ok allora aspetta allora dottor stacca la squadra faccio fare la manovella a lui e lei che non lo so come sì perché lei deve salire quindi solo ok quindi lei prendiamo qua lei la mettiamo qui quindi ok una cosa dottor prima di far azionare il tutto appena arriva limite l'ascensore fa un piccolo passettino ehm miri subito in basso e deve mirare in basso e sparare fino a che non muore l'animale mmm come becca dice è per forza è un argano utilizzato per il controllo dell'ascensore il pannello presenta un fuoco di forma quadrata ok quindi dottor io la preparo sempre prima sì però voglio vedere una cosa scusi deve girare dottor non per qualche cosa però magari la cuba gliela lasciamo a lei va bene? va bene usare l'ascensore sì quindi devo mirare giù sì fai un piccolo passettino ok un piccolo passettino mira in basso e vai basta ok vai eh dottor deve mirare ok aspetta vai vai mamma mia morto ma morto va 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 ok no perché mi era sembrato mamma mia che blatta che cos'è? oh attento no va preso bastardo bastardo perché me lo sta prendendo poco è il una cuffia è morto? tu ti fai sempre prendere? usa dai a posto ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatto prendiamoci anche questi proiettili che non si sa mai allora qua cosa ci troviamo? ce ne esce un altro? che dici? no no dottor deve fare lei dobbiamo andare più a billy comunque un attimo solo dottor devo far vedere una cosa torni rimetta un attimo la pistola a lei? sì lei ok ok esca vada un attimo sulla destra questo è l'enigma che abbiamo letto nel dove abbiamo trovato i corvi non ha capito l'enigma dove sono i corvi l'enigma dell'orologio che abbiamo letto poco prima di fargli prendere l'oggetto e sì ok su guardate manca la lancetta dei minuti e dobbiamo trovare la lancetta? sì per forza ok senta posso far salire a lui? no deve andarla a prendere comunque esca da quella porta tutto fammi vedere un attimo la mappa com'è ok su Rebecca su che tanto da poco chiudiamo anche questo episodio oh cavolo attento attento scappa subito qui dove devo andare all'altra porta gialla? sì attenti ci stanno i corvi che la rompono eh speriamo che non mi pigliano oh c'è va la piantina lì eh babbo ci stanno i corvi purtroppo vabbè la pigliamo poi proviamo a prenderla dopo oh ok adesso bene adesso scende adesso va venga verso di me questa questa zona è una boss fight già gli ho detto tutto eh bene bene qua vedo che dovevo mettere manovelle no no perché ho visto no ok meglio così lei non si preoccupi venga verso vada avanti vada avanti dottor eh deve scendere giù per le scale sulla sua sinistra Sì ma la boss fight è viene adesso? no ah ok perché vuoi scendere tra poco ah tra poco affrontiamo tutto con Rebecca? no perché ci deve stare pure Billy meno male perché Rebecca la vedo male eh siamo scesi qua sotto eh ma tanto non c'è niente eh c'è una c'è una chiave comunque ma che la dobbiamo prendere insieme mh c'è suonato la chiave c'è nient'altro quindi che faccio? deve salire dottor la gabbia è troppo pesante da sollevare ok risaliamo oh sali? come sale bene la nostra Rebecca guarda allora dove andiamo di qua? si deve scendere scendiamo di qua no? le dico di allora faccia una cosa dottor vabbè scenda giù scenda giù ok ok aspetta un attimo metta un attimo l'inventario si vediamo come siamo messi abbiamo il fucile si rimette il fucile a pompa o vuole o vuole riprendere prima Billy e entrare qua eh qua dentro? eh eh vabbè visto che dobbiamo fare la boss fight andiamo a prendere Billy eh si allora andiamo a prendere Billy e dottor devi andare dritto però eh ovviamente se senti degli zombie vada con la pistola e non sprechi i colpi del fucile eh allora la metto eh ok la metto adesso dai che come guida turistica sono perfetto per lei dottor eh si allora devono prendere Billy si Billy venga con noi oh l'altra parte è tutto si si no no la si qua qua bra si si piano piano mi inizio a come si dice a capire dove andare a sinistro a sinistro a sinistro da qua dove vai andiamo dal nostro cavo amico Billy ok oh ma che cacchio no no maledetto no no ci credo no ci ha ammazzato ok ragazzi siamo morti prima per colpa di uno zombie che dovrebbe essere qua fuori quindi prepariamoci eh cavo panzer vi affrontarlo perché non mi aspettavo di incontrare un altro zombie dopo che avevamo eliminato quelli di prima può capitare che una volta arriva l'amore e vabbè ma è l'amore suo dottor no dove sta è morto no se esce il sangue si dottor è morto io lo vedo muovere però siamo sicuri dottor vada vada perché ho visto che muoveva la testa tipo no no vabbè non si preoccupi adesso si muove zombie maledetto dica si riprende a Billy no dottor no aspetta un attimo ferma ferma aspetta un attimo dica dica prema prema sull'inventario ok squadra e vada nella hall metto a capo Billy eh non si sa mai anche se non c'è poi gli ettili si conviene usare Billy metta un attimo metta un attimo l'inventario si ok a posto la manovella la possiamo riprendere o rimane qua no rimane là tanto non serve più ok perfetto cioè possiamo andarlo si dobbiamo tornare a all'atrio di giù certamente è la mia specialità si è simpaticissimo guardi io non so io ho detto uno di questi giorni mi vedrà sotto casa sua con l'accetta l'ho già detto quindi allora esca da lì esca da lì porta gialla si l'unica pecca di questo gioco è fare solo avanti e dietro eh si vabbè anche in Resident Evil Remaster era più o meno lo stesso no? più o meno lo stesso si destra dottor allora eh adesso ho 10 eh ma il problema è destra di qua? si eh vada alla porta là questa qui? si eh un consiglio dottor facci usare fai usare volendo il fucile alla Rebecca eh si allora equipaggia si perfetto facciamo anche caricare ok ok attento che lì dentro ci stanno altri scarafaggia però aspetta un attimo poi 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 è lei che purtroppo dà questa come si dice ecco facciamo un po' di pogliettili perché lui ne ha pochi siamo a corto di pogliettili allora dovevo entrare qua dentro giusto? sì ok ovviamente là dentro c'è anche il lanciagranate eh vediamo come va speriamo di non morire ancora e chi lo sa con lei tutto è possibile oddio vai spara dottor spara spara a posto lei non si fida quel problema su qua c'abbiamo proiettili no il dipinto non mi interessa l'ho realizzato a massimo ok voglio prendere questo le munizioni ehm deve prendere deve prendere comunque ehm la statuina mhm quante spazio c'ho? ce la facciamo a prendere ce la facciamo si a voglia ok e calcoli dottor che le armi pesanti prendono sempre due due slot ehm si se riusciamo a pigliarlo ok lanciagranate bello che bello lanciagranate che ok ok prenda pure l'oggetto lì otto ok ehm la porta blu poi si sbloccherà più avanti che per il momento è chiusa quindi torna indietro torna indietro ok andiamo a lasciare la statua? si che dici? cioè andiamo a mettere sulla bilancia o sbaglio? eh per forza là ah ok ehm vabbè io ti vei che magari poi andiamo a salvare la boss fight eventualmente che dice lei lo facciamo la prossima volta così almeno ehm eh si e dottor altra no deve dell'altra parte se no si volendo la può fare anche adesso eh però se lei vuole staccare non c'è problema eh perchè prima quanto abbiamo fatto più o meno 40 minuti adesso ho già 5 o 6 siamo andati già abbastanza lunghi capito allora andiamo di qua ecco con la bilancia e mettiamo la statuette e mettiamo la statuette allora dottor come le sembro come da guida finammo bravo bravo si sta comportando bene eh grazie ma evita tutti i soldi che pago per lei eh ecco quei zero euro che gli do li vale tutti vaffanculo togli una statua no 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 lascio così allora si ovviamente li deve togliere soltanto per metterci le ali per metterci le ali ah ok Fausto Fausto le ali arrivederci è stato un piacere essere stato qui questa questa era pessima guarda lo dico lo dico anche a me stesso eh meno male era pessima comunque andiamo a salvare e chiudiamo l'episodio comunque non sapevo che le conoscesse lui eh lui chi vabbè buonanotte eh giovane l'ho poi di l'ho poi di nasso inchiossatore da terra la qualità della connessione è bassa bene vabbè tanto abbiamo quasi terminato ok andiamo a salvare vai salva e chiudiamo qui l'episodio perché penso che siamo andati abbastanza lunghi così anche lei si libera che ha da fare anche le sue cose giustamente ehm poi poi soprattutto vuoi risparmiare perché quei zero euro che le sto pagando sono già troppo perché giustamente adesso mi è apparso un elicottero sopra casa vede pure ricercato vedo che inizia a farsi un nome anche lei interessante vedo che è ricercato anche lei comunque detto questo allora ragazzi abbiamo la nostra Rebecca muove un pochino spesso però ci sta sapevamo che era quanto deboluccia quindi chiudiamo qui l'episodio se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale scrivete anche nei commenti se vi sta piacendo e seguitemi naturalmente sulla mia pagina instagram sul canale twitch e sulla pagina facebook andate a seguire anche Deuspanzer3tv sul suo canale youtube e sulla sua pagina twitch mi raccomando perché è un bravissimo streamer e ringrazio appunto anche cavo panzer di avermi fatto da guida come dice lui anche in questo episodio di resident evil zero e quindi cavo panzer ci vedremo al prossimo episodio quindi grazie ancora grazie a lei dottore grazie a chi supporta questa questa serie questo progetto e chi poi vedrà le puntate quando quando può grazie a tutti ok quindi ragazzi supportate mi raccomando la serie e condividete anche i video ai vostri amici detto questo ragazzi noi ci vediamo al prossimo episodio di resident evil zero ciao a tutti ragazzi ciao